Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Edoardo Vianello, ospite a Verissimo, ha raccontato uno dei momenti più dolorosi della sua vita, la scelta di non vedere sua figlia Susanna negli ultimi giorni di vita. Colpita da un tumore a 49 anni, la diagnosi lasciava poco tempo, e Vianello ha deciso di non trascorrere con lei le sue ultime ore. La decisione ha addolorato l'ex moglie, Vilma Goik, ma per il cantante rappresentava un modo per preservare il ricordo di Susanna felice e piena di vita. Non è stato facile, ma ho scelto di non condividere questo dolore, perché non credo che possa essere compreso fino in fondo, ha spiegato Vianello, aggiungendo di aver vissuto il lutto da solo. Combattuto tra sensi di colpa e la consapevolezza di non poter fare nulla per salvarla. Riflettendo sulla sua scelta, Vianello ha detto di non sentirsi pentito. Sapevo che Susanna era circondata dall'affetto di Vilma e di mio nipote Lorenzo. Ho lasciato a loro quei momenti perché non me la sono sentita di affrontarli. Volevo custodire l'immagine di lei felice e piena di energia. Forse è stata una forma di debolezza, ma ognuno vive il dolore come riesce.